Creare un soggetto unico che coordini e promuova l'offerta turistica in tutta l'area del lago di Como. I presidenti delle province di Como e di Lecco, i sindaci dei due capoluoghi, il distretto attrattività turistica del centro lago, i rappresentanti delle camere di commercio, di confcommercio, confesercenti e confindustria di entrambe le province, nonché di Lario Fiere, si sono incontrati presso l'assessorato allo sviluppo economico della regione per un tavolo convocato dall'assessore Mauro Parolini per discutere della nuova strategia di sviluppo del turismo lariano. Regione Lombardia accompagnerà le province di Lecco e Como, con le loro associazioni imprenditoriali e istituzioni, in un percorso finalizzato a sviluppare ulteriormente il Lario e i territori limitrofi, con le loro diverse potenzialità e peculiarità, sotto il segno comune del brand Lago di Como in Lombardia, spiega il consigliere regionale Mauro Piazza, che ha raccolto le istanze provenienti dal territorio lecchese, estendendo la proposta anche all'area comasca e a quella dell'Alto Lago. I lavori del tavolo proseguiranno anche a novembre. Già emersa la volontà comune di dare forma e sostanza a un soggetto unitario, la cui forma giuridica verrà individuata a breve, che coordini le realtà presenti su un lago che è ormai noto nel mondo. Siamo in un momento storico, spiega Piazza, di superamento delle diffidenze per uno scopo comune. Credo che in questo modo stiamo rispondendo a un territorio che sente la necessità di un luogo deputato al coordinamento, alla promozione e alla condivisione delle best practices, pur nel rispetto delle peculiarità di ciascuno e con la valorizzazione delle molte iniziative pregevoli degli operatori. Considero positiva la volontà emersa durante l'incontro di individuare un soggetto unitario per il coordinamento delle politiche di sviluppo e di comunicazione del Lago di Como, commenta Raffaele Straniero, consigliere regionale del PD, che ha partecipato al dibattito. Quello che, tuttavia, come consiglieri del Lago abbiamo chiesto, è una maggiore integrazione tra il trasporto e il turismo, a partire dallo sviluppo della linea Lecco Como, che già conta pochissime corse e in orari poco affini alle esigenze dei turisti, spiega il consigliere PD. Inoltre, per Straniero, è necessario prestare attenzione non solo al turismo lacuale, ma anche a quello del comparto montano.